Il menù della seconda giornata di Serie D Girone F propone un gustoso derby marchigiano tra Civitanovese e Atletico Ascoli, uscite con umori contrastanti dal debutto in campionato. Netta sconfitta per la Civitanovese sul campo di L'Aquila, 1-0-3 maturato interamente nella ripresa. Pari di prestigio invece per l'Atletico Ascoli contro la blasonata sanbedenettese. Alfonsi conferma il 4-3-1-2, Domizzi davanti alla difesa con Zanni e Visciano Mezziali. Ercoli si sistema sulla tre quarti a ridosso delle punte Spagna e Buonavoglia, quest'ultimo al rientro dopo un turno di squalifica. Partita equilibrata e spigolosa fin dai primi minuti. Al quindicesimo Minicucci rientra sul destro e calcia solo calcio d'angolo. Un minuto più tardi Vecchiarello dalla grande distanza non va lontano dal bersaglio grosso. Nella Civitanovese esce per infortunio Valentin Franco dopo 25 minuti dentro Rigioni. Al ventottesimo ancora minacciosa la squadra di Seccardini. Minicucci calcia da posizione decentrata. Solo calcio d'angolo per gli ospiti. Un arbitraggio puntiglioso infervora gli animi. Ne fa le spese il patron della Civitanovese Profili allontanato per proteste al 35esimo. Quattro minuti più tardi Ciabuschi prova a coordinarsi senza successo in piena area. Arriva da dietro Severini il cui tiro viene deviato in corner. Sui sviluppi della battuta cross di Vecchiarello Ioni stacca di prepotenza e regala il vantaggio all'Atletico Ascoli. Gelato il polisportivo. Squadre al riposo sullo 0-1. Verdetto non casuale. Emerge fino a questo momento l'Atletico Ascoli più propositivo e lucido mentalmente. Dopo due minuti della ripresa Ciabuschi salta il portiere in uscita ma è costretto ad allargarsi e calcia fuori misura. Buona occasione comunque per gli ospiti. Alfonsi toglie Visciano e getta nella mischia l'attaccante Padovani non ancora al top della condizione. Al tredicesimo mezza girata di Zanni sopra la traversa. La squadra di Alfonsi guadagna campo e si getta all'assalto del pari. Al ventiduesimo però sono gli ospiti ad essere pericolosi. Provvidenziale il recupero in scivolata di Passalacqua sul neoentrato Olivieri. Al ventinovesimo punizione di Domizzi a fil di Montante. Pregevole l'esecuzione del numero 8 Rosso Blu. Al trentaduesimo Padovani mette dentro di testa ma l'offside segnalato dall'assistente di linea strozza il boato del polisportivo. Al trentacinquesimo Buonavoglia ci prova in mischia con l'esterno destro. Il muro a scolano resiste. Gli animi si surriscaldano di nuovo in particolare tra i due mister Alfonsi e Secardini. Al quarantaduesimo ancora Domizzi pericoloso su calcio di punizione. Traiettoria si abbassa ma non a sufficienza. Nei sette di recupero forcing disperato della Civitanovese. Al novantunesimo Toccafondi entrato nella ripresa mette in mezzo per Buonavoglia. Pompei si distende e blocca. Al novantasettesimo Maio subentrato Acciabuschi chiude i giochi con un rasoterra chirurgico. 2-0 il risultato finale per l'Atletico Ascoli. Squadra concreta e molto solida dal punto di vista difensivo. Debutto casalingo da dimenticare per la Civitanovese. Rimane come nota positiva un secondo tempo in crescendo. Sentiamo le voci di Alfonsi e Secardini. Mister Simone Secardini, confermate le buone sensazioni emerse dal derby con la Samb e vi prendete tre punti molto importanti in questo avvio di stagione. Sì, diciamo che il lavoro che stiamo svolgendo si riconosce poi la domenica, è tangibile, si tocca con mano. Abbiamo aggiunto un tassello in più, quello del gol che c'era mancato in casa con la squadra nella Samb e Nettese e quindi ci portiamo a casa tre punti importanti per la classifica e comunque si è assudati e guadagnati con merito, credo. Dopo due partite che idea si è fatto di questo girone definito da tutti molto competitivo? L'idea è quella che mi porto dietro all'anno scorso, un campionato equilibrato, livellato, tutte le domeniche, può succedere di tutto in qualsiasi campo. Noi ne abbiamo fatto tesoro l'anno scorso inizialmente prendendoci un po' di bastonate e poi abbiamo preso le contromisure. Quest'anno, grazie a un anno di esperienza in più mio e dei ragazzi, ad alcuni innesti mirati che ha fatto astutamente il direttore con tutta la società, riusciamo a mettere in campo una squadra meno leggera, un po' più pratica, un po' più solida e oggi credo che si sia visto. Dispiace per la gente e dispiace per i ragazzi perché sono abbacchiati dopo questo risultato. Sicuramente non abbiamo fatto un grande primo tempo, però penso che anche loro avevano fatto poco. Poi l'episodio in queste categorie, continuiamo a dire, che ci condanna, abbiamo preso il gol e poi dopo il gol abbiamo subito, nel senso che non abbiamo avuto la forza al primo tempo di reagire, abbiamo fatto male. Al secondo tempo penso che abbiamo reagito bene, i ragazzi hanno andato tutto in campo e meritavamo il pareggio, però non è arrivato. Poi al fine abbiamo preso anche il secondo gol, però continuiamo a lavorare, tanto quella è l'unica soluzione per uscire da questa situazione. Non è stata, crediamo, una partita facile anche sul piano emotivo. C'era ovviamente la pressione del debutto, un avversario molto duro e anche un arbitro che spesso ha spezzettato eccessivamente il gioco con un atteggiamento un po' troppo puntiglioso, diciamo. Sì, ma noi non dobbiamo pensare a quello, non dobbiamo pensare a lavorare, a pensare dove abbiamo sbagliato oggi e cercare, sappiamo che dobbiamo crescere, dobbiamo crescere perché questo campionato è difficile e come dicevo l'altra volta non è che ci aspetta, quindi siamo noi che ci dobbiamo far trovare pronti. Finalmente oggi dispiace perché il punto avrebbe dato un po' più di serenità ai ragazzi, un po' più di tranquillità, invece continuando la seconda partita è ancora presto, ci mancherebbe, c'è tutto quanto, il tempo per fare tutto quanto. Però vedere i ragazzi abbacchiati a fine partita dopo aver dato tutto in mezzo al campo dispiace perché penso che il pareggio sarebbe stato meritato. Però ripeto, facciamo come il vento dell'altretico Ascoli, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo già alla prossima partita. Dopo due partite un po' diverse come l'Aquila e quella di oggi, qual è la cosa da migliorare più rapidamente, urgentemente secondo lei? Possiamo migliorare in tanti punti, sicuramente due partite abbiamo fatto zero gol, quindi sicuramente dobbiamo cercare di più la porta con cattiveria. Però, ripeto, il secondo tempo abbiamo fatto bene, il risultato forse premia un po' troppo loro perché non meritavamo la sconfitta, però ripeto, dobbiamo continuare a lavorare, stare tranquilli, sereni e uscire fuori da questa situazione.